Franco, intanto sei tornato a Crotone e questa volta stai portando un evento particolare che fa tappa a Crotone, quello del Festival della Colonna Sonora. Esattamente, dopo il paese di Parenti, la città di Reggio e Gerace, siamo riusciti a portare questo festival, insomma, che è una seconda edizione qui nella città di Crotone, e soprattutto in delle location particolari, come la villa o il castello di Carlo V. Sono piccoli eventi, insomma, che hanno una commisurazione del luogo, sono, diciamo, cosiddetti site specific, oggi si dice, quindi specifici del luogo. E si cerca di raccogliere l'eredità del paesaggio sonoro, di tutto ciò che ci circonda, non solo bene architettonici e paesaggistici, ma come il cinema, anche la luce, perché il cinema è anche luce, e noi, giustamente, essendo un festival che viene fatto, in associazione con l'Associazione dei Compositori Musica per Film, è finanziato poi comunque da Regione Calabria, Calabria Film Commission, ci sono moltissimi enti, tra l'altro Comune di Crotone, anche in questo, e cerchiamo in qualche modo di trarre dal luogo la cosa più bella, che è la musica, quindi le colonne sonore. E sono quasi tutte colonne sonore, non solo storiche, che chiudiamo gli occhi e pensiamo a grandi colonne sonore, ma sono colonne sonore anche contemporanee, di autori contemporanei, membri dell'Associazione dei Compositori Musica per Film, il cui premio Oscar, Ennio Morricone, era presidente onorario, ma è un'associazione che si vanta di avere non solo anche Nicola Piovani, tra i big, ma anche grandi compositori dell'estero, come Hans Zimmer, Michael Giacchino, Michael Nyman. Insomma, è un qualcosa di interessante che stiamo portando a Crotone. Sì, è interessante tenendo conto che abbiamo bisogno di serate, di momenti diversi, anche di giornate che partono all'alba, come dicevi tu, credo che siano eventi che rappresentano anche quello che è il tuo impegno, perché tu ami questa città, ma non solo per amore di questa città, ma per la passione che hai, sia per la musica che per il cinema. Esattamente, però questo più che altro non si lega, non diventa, non abbiamo mai creduto all'arte fino a se stesso, abbiamo sempre creduto all'arte per gli uomini, e credo che la città di Crotone, sicuramente più di tante altre città o piccoli borghi che abbiamo toccato con questo festival, merita qualcosa di speciale. Infatti sono dei concerti, non solo negli orari canonici delle 21, ma sono concerti in cui noi prendiamo la luce proprio del cinema e il luogo, e cerchiamo di espletarlo attraverso un nuovo linguaggio musicale, una specie di neo-umanesimo della musica. Quindi avremo dei concerti all'alba, avremo dei concerti anche al tramonto, molto importanti all'alba, perché poi tra l'altro Crotone ha avuto una storia diciamo decennale di concerti all'alba, che purtroppo negli ultimi anni non vengono più svolti, e quindi era necessario in qualche modo trovare un festival come il Festival della Colonna Sonora, che può restituire queste chicche alla città di Crotone ed essere orgogliosa anche di queste cose.